Musica Bentrovati da Roma, ci troviamo nella straordinaria cornice di Casableve, nel cavo, nella cantina storica di Casableve, dove alle mie spalle potete ammirare un muro di epoca romana. Musica E da Casableve ci tuffiamo subito in Campania per andare a degustare insieme a voi la falanghina dei Campi Flegrei 2010 dell'azienda Grotta del Sole. Musica Ci troviamo in Campania, nell'azienda della famiglia Martuscello, che rientra a pieno titolo tra le protagoniste della rinascita della viticoltura campana di qualità, Dal 1992 parte un progetto di valorizzazione dei vitigni autoctoni della Campania, tra i quali primeggia la falanghina, il piedi rosso, il gragnano e l'asprigno di Aversa. Detto questo, andiamo a degustare insieme a voi la falanghina dei Campi Flegrei. Musica 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 Questa falanghina della famiglia Martuscello Grotta del Sole 2010 si presenta con un colore pallierino limpido. Musica Al naso colpisce con effluvi erbaci di mandola fresca e pere dei cani. Lo andiamo ad assaggiare insieme. Musica 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 Al gusto è caldo, ma ben sostenuto da una sfiziosa vena fresco sapida, solo acciaio per questa falanghina. Lo abbinerei sicuramente a delle uova strapazzate alle erbette che ne saltano le caratteristiche gusto olfattive. Musica 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 Musica